Oggi vi racconto perché Roma diventa Roma, apre l'impero, conquista Mezzomondo, perché qual era un piccolo agglomerato di villaggi diventa così potente. Ci sono tanti motivi, oggi ve ne spiego uno di questi centinaia di motivi ed era il sacrificio e la dedizione. Alla fine di questo video sarà come un pugno nello stomaco, ma capirete davvero perché Roma diventa Roma, perché Roma e i soldati sono sempre così forti in battaglia e sarà un pugno nello stomaco, ma questi erano i Romani. Il fatto è che ci sono tre grandi popolazioni, i Romani, i Laziali o Latini, chiamiamoli Laziali, tanto per farvi capire che c'erano tutti gli abitanti del Lazio, e i Sanniti. Il Sannio era fra il Molise, le Marche, la Puglia, la Campania, quella zona che è un po' terra di nessuno in Italia in quel periodo, è terra dei Sanniti. Dopo ci sono anche i Campani. Bene, queste sono le grandi popolazioni, ovviamente come grandi popolazioni si guardano un po' tutti in Cagnesco, però ancora sono lì i Latini, i Laziali vogliono diventare Romani, i Sanniti dicono noi ci vogliamo andare a prendere la Campania, voi fatevi tutti i vostri, andate verso la Toscana, i Romani, sì e no, questa è un po' la situazione. I Sanniti vanno in Campania, vanno in Campania e incominciano a davvero a darci sotto contro una popolazione di piccoli villaggi, i Sidicini. Questi Sidicini cosa fanno? Non possono farsi difendere da nessuno, vanno a Capua, a Capua è già una bella grande, bella città, tanto per spiegarvi, Capua era già grande e là c'erano le scuole dei gladiatori. Molte famiglie nobili, quando pranzavano e invitavano altri, come dire, come spettacolo, facevano ammazzare i gladiatori là nel cortile di casa, quindi loro mangiavano e al frattempo i gladiatori si scannavano e morivano fra di loro, tanto per farvi capire. Comunque, questi Sidicini vanno a Capua e chiedono a Capua per favore se ci potete difendere dai Sanniti e Capua dice sì sì vi difendiamo noi dai Sanniti, diventate popolazione di Capua. Il punto è che i Sanniti dicono ah sì e questo li difendete voi, incominciano a sediare Capua e i Sanniti sono tanti, ma sono davvero tanti. I Sanniti non è come Roma che avevano una città, non era così, era proprio un villaggio, una confederazione di piccole città sparse ma davvero unite fra di loro, quindi potevano e infatti fecero un grande esercito, l'esercito Sannita. Questo esercito Sannita va a Capua e fa l'assedio di Capua. Capua sta per cadere, allora degli ambasciatori riescono a scappare dall'assedio e andare a Roma. Come ci arrivano? Non ci arrivano un po' una leggenda? Davvero non ve la sto a raccontare ma è davvero una storia pure questa. Comunque loro arrivano a Roma e vanno al Senato, dicono dov'è il console? Loro entrano alla porta, gli esercito, le guardie dicono chi siete, glielo spiegano, lo portano davanti al console. Il console dice che volete? Cioè sai c'è questa, fermi tutti, dobbiamo parlarne col Senato, mettiamoci dentro al Senato, allora entro al Senato, il console e questi qua, entrano tutti là dentro, ok parlate, vi stiamo ascoltando tutti. Cioè in nome dell'amicizia fra i campani e i romani, in nome dell'amicizia di Capua con Roma, in nome dell'amicizia eccetera eccetera, noi vorremmo che voi ci difendeste dai Sanniti. I romani là tutti a guardarsi, scusa ma in nome dell'amicizia, in nome dell'amicizia noi dobbiamo mandare i nostri giovani, la nostra bella gioventù a morire per voi, non ci sembra il caso, giusto? Difendetevi da soli. No, ma dai c'è un'amicizia lunga e questi si continuavano a guardare, i senatori, a noi non ci risulta che ci sia questa amicizia lunghissima, cioè il patto l'abbiamo con i Sanniti, non l'abbiamo con voi, con voi effettivamente abbiamo fatto un poco di commercio, andiamo di qua, andiamo di là, niente, i romani non si muovono, cosa fanno questi di Capua? Dicono signore allora non possiamo fare altro, ci sottomettiamo a Roma, diventiamo una colonia vostra, qua sono le chiavi della città, la città è vostra, la città è romana. Dice va bene, ne dobbiamo parlare, uscite, e li fanno uscire, c'è una piazzetta vicino al Senato, li fanno mettere là le piazzette vicino al Senato, volete qualcosa? Acqua? Quelli giustamente erano già belli che, no, no, grazie, aspettiamo qua, preghiamo gli dèi. Va bene, nel frattempo al Senato c'era una parte che diceva, ma sì, prendiamoci Capua, e l'altra parte che diceva, ma chi se ne frega, espandiamoci verso il nord. Però la Campania era piena di alberi da frutto, frumento, quindi viti, era troppo succulenta. Allora il Senato diceva, vabbè, facciamo così, accettiamo. Chiamano questi di Capua, dentro, 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 silenzio, 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 il Consolo dice, abbiamo accettato, questa Capua diventa nostra, mandiamo oggi, domani stesso, mandiamo gli ambasciatori davanti a dire all'esercito sannita di togliere l'assedio. Questi ambasciatori vanno là, arrivano dal campo dei sanniti, sono sul cavallo, e quelli dicono, ma che ci fate qua voi, che volete, non se ne aspettavano i sanniti di avere, di vedere, appunto i romani. Immediatamente, senza scendere da cavallo, gli ambasciatori dicono, Capua è nostra, Capua si è sottomessa a noi. Cosa fanno i sanniti? Prendono a questo che ha detto questa parola per le gambe, lo sbattono a terra, lo tirano giù dal cavallo, e dicono, se devi parlare con noi da ambasciatore, scendi da cavallo. Anche i sanniti erano duri. Allora scendono tutti da cavallo, quello si toglie la polvere, dice, guarda che Capua si è sottomessa a noi, andatemone perché questa è ora nostra. E i sanniti sta cosa non gli scende giù, dice, ma come c'era il patto che in Campania c'eravamo noi, e voi andavate in Toscana, adesso rompete il patto. E i romani dicono, noi non rompiamo niente, sono stati quelli che sono venuti da noi. Sono stati quelli che sono venuti da noi, ha avuto questo piccolo problema tecnico, dice, sono stati loro che sono venuti da noi, cioè non è che ve l'abbiamo rotto noi il patto. Ovviamente vanno alla guerra, i sanniti non gli può sta bere questa cosa dei romani che si prendono parte della Campania, e cosa fanno? Fanno questa guerra, la vincono i romani. Alla fine della guerra fanno un bel patto, un bel patto davvero con i sanniti, che è un po' si... un patto di non belligeranza. Questa cosa ai laziali non gli sta bene, o meglio, i laziali incominciano a dire, senti ma la Campania allora ce la prendiamo noi, e i romani gli dicono, no, la Campania non se la prende nessuno, c'è il patto con i sanniti. Dice, allora ora ci prendiamo un po' di Puglia, no, la Puglia non ve la prendete perché c'è il patto con i sanniti, c'è sempre sto patto con i sanniti, ai latini non va bene, si ribellano, ma chi si ribella pure? Si ribella pure Capua, è un po' un tradimento, cioè prima sono stati salvati e dopo si sono lamentati e si sono ribellati, quindi fanno questa coalizione fra i latini e i campani contro i romani e i sanniti, ma più che altro i romani. I romani vanno per dare bastonate di quelle buone 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 e vanno giù fino a Napoli, e c'è la battaglia del Vesuvio, e la battaglia del Vesuvio è dove uno dei miti, una delle battaglie mitiche dei romani è il motivo anche di questo video, perché nella battaglia del Vesuvio, e io avevo preso qualche appunto perché non ricordo mai i nomi, cioè quantomeno li so ovviamente, ma non li ricordo, ci sono due consoli, Tito Maglio Imperatore, Imperioso, Tito Maglio Imperioso e Publio Dezio Muro. Cosa succede? che praticamente la disciplina non ce n'è, non c'è nessuna disciplina nell'esercito, i due consoli capiscono che stanno andando a perdere questa battaglia del Vesuvio e chiedono più disciplina, niente, non ci riescono ad avere più disciplina, fin quando il figlio di Tito Maglio Imperioso contro gli ordini del padre va a prendersi battaglia e vince una piccola battaglia e ritorna vittorioso. Il padre sapete cosa fa? Siccome vuole mettere disciplina nell'esercito, dice vi mostro a tutti come si mette disciplina e uccide il figlio, fa uccidere il figlio, quindi già questo primo atto eroico da parte del padre che fa uccidere il figlio giusto in nome di Roma, il nome della disciplina, a questo punto ovviamente tutti i soldati la disciplina la incominciano a mettere perché dicono se ha ammazzato il figlio figurati se non ammazza pure me e quindi un colpo solo lui mette la disciplina, vanno a questa guerra, a questa battaglia con l'altro esercito e succede che l'altro esercito sono molto di più, i latini e i campani sono molto di più, però fino all'ultimo, fino all'ultimo, fino all'ultimo, stanno perdendo, il console verso la fine della battaglia stanno perdendo, i romani stanno davvero perdendo, l'altro console Publio Desio Muro chiama Marco Valerio che è il suo attendente e gli dice dimmi qual è il canto verso gli dèi quando sacrifichi la tua persona e quello dice no non sacrificare te stesso, fa silenzio, questo è un ordine, quali sono le parole? Quello Marco Valerio gli dice le parole, lui sale al cavallo, va da solo contro l'esercito avversario con la spada sguenata cantando questa grazia agli dèi, praticamente era da ospicio per la vittoria, sapeva che si stava sacrificando, ovviamente moriva, era lui da solo contro tutti e lo uccidono fra di freccia con le asce, lo uccidono completamente, alla vista del console che si fa uccidere, si immola per tutti gli altri, attaccano gli altri, attaccano gli altri romani, tutto quello che era rimasto, però era rimasto un reggimento, un piccolo reggimento che era stato messo da parte, questo reggimento viene chiamato all'ultimo, dice ormai non c'è più niente da fare, prendete le vostre aste e accecatele, uccidetele proprio in faccia, queste asce le dovete conficcare in faccia ai nemici e questo fanno e non si fermano, praticamente fanno uno sterminio delle asce, delle aste praticamente, fu chiamato lo sterminio delle aste perché loro con questo semplice movimento di tirare l'asta in faccia ai nemici lo piacerò così bene che praticamente decimarono l'esercito avversario e vinsero, ovviamente per la leggenda la cosa più importante fu il sacrificio di Publio Desio Muro, Muro o Mure, alcuni lo chiamano Muro, alcuni lo chiamano Muro, comunque Publio Desio si sacrificò e questa è già una, diventò una leggenda per gli anni e i secoli a venire e Tito Maglio uccise il figlio e questa fu un'altra leggenda per gli anni a venire. Alla fine, alla fine di tutto, ovviamente i romani vinsero, si presero la Campania, si presero tutto il Lazio e non si presero il Sannio, ma loro rifaranno la guerra, la seconda guerra con i Sanni, prenderanno anche i Sanni. Una cosa molto carina, una cosa molto carina, ci fu un'ambasciata, arrivarono degli ambasciatori da Cartagine a complimentarsi con Roma. Arrivarono là, al Senato, si complimentarono, il Senato disse grazie, ovviamente, poi molto educatamente, disse grazie a tutti, eccetera, eccetera, appena andarono via, uno dei senatori disse, noi no, ma i nostri nipoti sicuramente andranno a combattere contro di loro. E così fu, anni, centocento anni poi, ci furono le guerre puniche e la guerra contro Cartagine. Ma questi erano i romani, questi erano i romani, cioè il comandante che si sacrificava, quello che uccideva il figlio, quelli con le aste erano duri, era veramente duri e così fu costruito l'impero. Detto questo, ragazzi, iscrivetevi sempre perché è sempre un piacere questa checchierata con voi. Sono piccole pillole di storia che è bello sentire, è bello sapere, è bello mettersi dentro perché appartengono a noi, alla nostra storia, alla nostra nazione. Ciao ragazzi, ciao ciao!